Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Questo video sarà il secondo Wall Fit in a Day. Ho deciso di farne un altro perché ho visto che quello precedente è piaciuto e quindi la mia idea sarà di farne vari nel corso del mese perché come vi ho detto nel video precedente lo trovo un video molto utile, carino, magari una cosa più impegnativa, più carina da vedere e poi comunque è utile per capire come organizzo io la giornata. Questa è l'ultimità che vedrete adesso è un po' diverso dal primo perché è una giornata in cui ho fatto workout e mi sono allenata. E niente, vi lascio al video e alla prossima. Un bacione, ciao! La mia colazione di oggi è il mio solito cappuccino di soia con muesli croccante della coppia, che è il muesli assoluto mio preferito, senza zucchero bianco, senza olodi palma, eccetera. E poi una fetta della torta, quella all'arancia, di cui ho fatto il video un po' di tempo fa. A pranzo oggi mangerò un risotto integrale, questo è dell'Eroskin, con delle zucchinette, della cipolla secca, potete mettere anche la cipolla fresca, olio extravergine d'oliva e poi io per renderlo più buono ho messo le mandorle, proprio le ho fatte cucinare insieme al riso e alla fine sopra una spolverata di lievita alimentare. Per merenda, oggi mangerò della frutta, ho scelto la banana perché ci sta benissimo con lo yogurt, questo è il yogurt di soia ai mirtilli, con fratello e lo spin, è buonissimo, tra l'altro è molto economico, sopra ho messo dei semi di canapa, è una merenda buonissima, tra l'altro con tante vitamine, è molto energetica, perché come sappiamo la banana è molto energetica, e poi ci sono anche le proteine dello yogurt. La mia cena di oggi sarà questo hamburger di soia, che prendo all'aerospin, è economico ed è veramente buono, e a cui ho messo sopra una maionese vegana al curry, che prendo al Natura sì, ed è senza glutine, è molto buono, è particolare, ricorda proprio i sapori indiani, e se vi per cerchi arrivi la straconsiglio. E accompagnerò all'hamburger, che è comunque una fonte di proteine, un'insalata di pomodoro, origano, aglio e semi di canapa, condita con dell'olio di soio, delle galette di mais biologiche e della coppia. Come sempre, non può mancare il mio spuntino pre nanna. Come al saluto scelgo una tisana, che fa benissimo, mi rilassa, mi fa dormire meglio, e in questo caso mi drena pure, perché questa è una tisana drenante, quindi per la pancia gonfia, è ottima come digestivo. E questa è della Copp, è molto buona, è a base di melissa, menta, ortica, sambuco e dequiseto. Ve la consiglio, è veramente buona. E poi l'accompagno, ha due biscottini, anche questi vi straconsiglio, sono dell'acce nero, che è una marca che io adoro, di questa marca compro anche la farina, i dati, sono dei frullini integrali, fatti da, se mi pare, 60% di farina integrale, e il resto di farina di frumento, e poi la cosa buona è che c'è il cruschello di frumento, è proprio si sente, è al palato proprio questo gusto rustico, e poi zucchero di canna e olio esclusivamente d'oliva, quindi senza dallo di palma, sono veramente buonissimi. Niente, questo è il mio spuntino prima di andare a nanna. E con questo è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, mi raccomando, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo alla prossima con una ricetta stavolta, alla prossima, ciao! Ciao!